In questo numero del Tg Università, continua la crescita internazionale degli Atenei italiani. PNRR, 87 milioni per promuovere conservatori e accademi all'estero. Le università italiane continuano a consolidarsi a livello internazionale e quanto emerge dall'edizione 2024 del QS World University Rankings by Subject, che piazza la Sapienza di Roma, per il quarto anno consecutivo, al primo posto assoluto negli studi classici. A guidare la classifica mondiale c'è sempre il Massachusetts Institute of Technology, seguito dall'Università di Cambridge. Terza Oxford, che scalza dal podio la Stanford University, ora quinta dietro anche a Harvard. Nelle prime dieci troviamo anche l'Imperial College di Londra, l'ETH di Zurico, la National University di Singapore e la UCL, altro Ateneo Londinese. La prima università italiana nella classifica generale si trova alla posizione numero 123. È il Politecnico di Milano, settimo sia in design che in architettura. Scala la graduatoria alla Sapienza, ora in 134esima posizione. Tra le cinque migliori università italiane al mondo, anche l'Alma Mater Studiorum di Bologna, l'Università di Padova e il Politecnico di Torino. Il Grand Tour AFAM, un polo dell'audiovisivo nel mezzogiorno, il recupero e la valorizzazione dell'opera italiana all'estero attraverso nuovi strumenti tecnologici, un network italiano della ricerca artistica. Sono alcune delle 30 proposte progettuali che coinvolgono 116 istituzioni dell'alta formazione artistica, museale e coreutica e 19 università e che potranno prendere vita grazie allo stanziamento di oltre 87 milioni di euro previsto dal PNRR. A selezionarle una commissione di esperti istituita dal MUR. L'obiettivo è promuovere all'estero l'eccellenza del sistema dell'alta formazione artistica e museale italiana. I progetti prevedono attività e programmi di sensibilizzazione, didattica, ricerca e produzione artistica per la conservazione e promozione della cultura italiana a livello internazionale. Ciascuna proposta progettuale dà un'attenzione particolare all'eliminazione delle disuguaglianze di genere e alla salvaguardia dell'ambiente. Particolare attenzione viene data alle istituzioni del Sud, a cui è destinato il 43% delle risorse pari a oltre 37 milioni di euro. L'Università di Trieste ha conferito la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza al capo dello Stato Sergio Mattarella e a Borut Pakor, già presidente della Repubblica di Slovenia, a motivare il doppio conferimento alla politica di riconciliazione perseguita dai due presidenti che ha reso l'aria del confine orientale, segnata dalle ferite della storia del Novecento, un esempio di collaborazione tra popoli legati dalla comune appartenenza all'Unione Europea. Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università di Trieste e Borut Pakor. L'Università di Trieste è orgogliosa di poter riconoscere la visione, il coraggio e il contributo straordinario che entrambi i presidenti hanno dato alla società attraverso il loro impegno politico, la difesa dei valori democratici, la promozione della pace e della cooperazione tra i popoli. Queste lauree honoris causa testimoniano il profondo legame tra l'Università di Trieste, l'Italia e la Slovenia. Questi paesi condividono una storia comune e una visione di futuro basata sulla solidarietà, la giustizia e la pace nell'ambito della Comune Casa Europea che tutti siamo chiamati a rendere più forte e più viva. Si dice che in politica non c'è spazio per l'amicizia. Non è vero. Tu sei un grande statista e un mio grande amico. Ho avuto fiducia in te nei momenti più difficili. Ci siamo aiutati a vicenda. Insieme abbiamo vinto. Grazie a te ho cominciato a credere che persino in politica c'è posto per la vera amicizia. Mi auguro che nel nostro mondo l'amicizia riesca a prevalere sul risentimento e l'odio. Nel suo intervento Mattarella ha posto l'accento sul rapporto tra Slovenia e Italia. È stato il nostro un viaggio in comune, nutrito da apporti importanti. La storica visita a Ljubljana del Presidente della Repubblica Cossiga, primo capo di Stato straniero a recarsi in Slovenia indipendente, il 17 gennaio 1992 e l'adozione della dichiarazione congiunta sull'estaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana hanno dischiuso le porte al dialogo, sottolineando fin dall'inizio la comune volontà di lavorare assieme per una nuova Europa fondata su democrazia, pace e unità. Grazie a tutti.